Questo spot credo riuscirà per la qualità, per chi avete anche, insomma tutti seguiamo una trasmissione dove la Sera ci fa comprendere quali sono i pericoli di questa era digitale. Insomma con la presenza di calzolai che chi non conosce insomma come colui che ci mette sul tivalà per non incorrere in tante questioni spiacevoli io credo che oggi segna un bellissimo passo in avanti di quella tecnologia a servizio del cittadino, a servizio dell'azienda, a servizio delle imprese. Desidero ringraziare prima di dare due informazioni diciamo così tecnico politiche anche Marco Camisani Calzolari che è il testimonial ufficiale insomma degli sforzi che il governo sta implementando in materia di digitalizzazione del sistema. La scelta di Camisani Calzolari rispecchia quanto dicevo all'esordio del mio intervento cioè una comunicazione la più disinvolta possibile ma anche la più efficace. Occorre coniugare il linguaggio moderno con quello che è il contenuto importante che andiamo a presentare oggi e quindi anche il tratto distintivo scientifico di Camisani Calzolari che peraltro fa parte anche del comitato che ha appena rilasciato la strategia per l'intelligenza artificiale al governo, al presidente del consiglio e quindi ci sembrava ovviamente il personaggio più giusto. Papà creiamo un app per aiutare le persone a semplificare la vita di tutti i giorni? Si è già. Dai su in serio, un app super sicura e semplice da utilizzare? Si è già. Io dico un app che faccio a stagliare tempo? E c'è già. Ma come c'è già? No, c'è già, la CIE per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione in modo rapido e sicuro con la carta di identità elettronica. Scarica la! Ecco, a questo punto passerei la parola al testimonial Marco Camisani Calzolari in collegamento. Eccoci, eccoci. Allora, innanzitutto volevo sapere se il collegamento ci è già o no. Sembra che ci è già. Ok, qui non lo coniughiamo, non è che non conosciamo i congiuntini, ma quando si dice ci è già ormai è diventato tormentone. In casa è solo ci è già, eccetera. Beh, allora io vi ringrazio per le belle parole. Ringrazio ovviamente il sottosegretario Vandaferro, il sottosegretario Alberto Baracchini e il sottosegretario Alberto Butti con cui in questi mesi abbiamo fatto tante cose. Volevo darvi qualche insider, come si dice. Cioè, lui è veramente mio figlio Mario, che è davvero un grande smanettone. Quindi uno che si mette lì, programma, fa ed era orgogliosissimo di fare questo spot, anche perché aveva appena preso, insomma, la sua carta di identità elettronica e stava provando l'app. Quindi il fatto di... è successo al contrario, no? Cioè, prima la conosceva e poi ha fatto lo spot e quindi era veramente felice. E poi vabbè, lato mio, che dirvi, sono ovviamente onorato di aiutare lo Stato, aiutare il Governo, di aiutare questo Dipartimento a comunicare questi temi importantissimi che per me sono una missione di vita, che viene prima di qualsiasi cosa. Lo faccio da tantissimi anni e quindi davvero sono... Il più bel regalo, ecco, che mi poteva essere fatto, essere parte di questa comunicazione, insomma, in qualche modo storica, perché non è solo la comunicazione, ma anche il fatto che questo... che la carta di identità elettronica e la relativa app sia un passo avanti straordinario, perché io lavoro tanto per semplificare la vita dei cittadini, l'ho sempre fatto, li aiuto, sono dalla parte loro, la mia visione tecnologica, per chi mi vede può pensare che sia solamente un tribuno che difende il digitale. In realtà, in realtà io difendo le persone, difendo l'umano e quindi conoscere la tecnologia, conoscerla bene significa ovviamente dominarla. Chiaramente la tecnologia deve essere anche usabile, facile e finalmente questa è un'app che fa bene il suo lavoro. Visto, insomma, la pubblica amministrazione storicamente è sempre stata un po' complessa, un po' burocratica e serviva del digitale che funzionasse. Peraltro io, tra le cose che faccio, mi occupo anche di sicurezza e lo faccio collaborando con la polizia postale, insomma, con altre istituzioni e ovviamente aiutando le persone a difendersi. Nei miei social pubblico ogni giorno una truffa, una cosa a cui stare attenti, eccetera. E devo dire che tecnicamente, essendo anche Nasco come programmatore, peraltro, tecnicamente è un prodotto che è, come dire, il metodo, posso dire, oggettivamente più sicuro, senza poter essere smentito al momento, di sicuro in assoluto non c'è nulla. Per cui sicuramente ci sarà qualcuno che dirà, oddio mi è successo questo, questo, questo. Però diciamo che è il metodo più sicuro, senza entrare nel tecnico, per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. E riuscire a dire queste cose con uno spot che spero è efficace, di grande diffusione, che arriva a tutti, ma è partito praticamente in contemporanea con la conferenza stampa e sono arrivati, di solito io già faccio un programma, come sapete, che fa milioni di spettatori e ormai sono, come dire, non mi scrive più nessuno, lo danno per scontato. Oggi mi sono arrivati decine e decine di messaggi, facendo i complimenti per quello che è stato fatto. E ovviamente sono orgoglioso di vedere poi dopo la fine con i loghi e con quelle istituzioni e di far parte in qualche modo, insomma, anche anch'io, di un pezzo di questa trasformazione importante. Per cui ringrazio davvero tutti dell'accoglienza, perché ho sentito l'inizio e mi avete davvero accolto in modo straordinario e vi do la parola. Grazie di avermi avuto qua e di avermi scelto. Io grazie, la ringrazio. Grazie Marco Camigiani, anche perché lui si è adesso protagonista di quello che credo sia una buona comunicazione, cioè un messaggio chiaro, comprensibile. In realtà noi stiamo e dobbiamo cercare di aiutare la coscienza digitale e l'uso consapevole dei servizi digitali, perché questo va a formare un ecosistema sicuro. Abbiamo bisogno di un ecosistema sicuro da questo punto di vista, da molti altri punti di vista, come diceva Marco Camigiani, anche in prospettiva nelle tante sfide che ci attendono, come quella che condividiamo col sottosegretario Butti dell'intelligenza artificiale, io sul fronte editoriale e informativo, e il sottosegretario sulla strategia complessiva per il G7 a guida italiana.